Musica Questi sono gli auricolari con cui loro lavoravano cioè collegati al telefono sempre in costante ascolto l'uno con l'altro sì perché quello mentre chiedeva l'informazione se davano le coordinate continuamente con Bluetooth per i congiungi sono per salire in macchina per dissi vai vai non vai scappa non scappa organizzati proprio professionisti questa è la iPad vedi la borsa i telefoni sono comunque tanti e ognuno è riconducibile a un furto fatto con destrezza di borsa nella capitale cioè decine di telefoni noi siamo riusciti a risalmere stasera all'incirca a 5-4-5 furti consumali oltre quello per cui sono stati tratti in arresto un pomeriggio amaro per una coppia di ladri peruviani che travestiti da turisti perfettamente mimetizzati collegati con gli auricolari Bluetooth l'uno con l'altro andavano in giro per le strade di Roma rubando borse ad ignare signore che circolavano con la macchina con un piccolo stratagemma mentre uno dei due distraeva chiedendo informazioni turistiche la complice sottraeva con destrezza la borsa appoggiata sul sedile anteriore con questo piccolo stratagemma sono state derubate decine di signore in poche ore i due peruviani sottoposti ad un controllo di polizia sono stati ritrovati in possesso di una notevolissima quantità di telefoni cellulari di borse vuote di documenti falsi intestati ad entrambi con diverse nazionalità e diverse identità riportate sugli stessi documenti e anche con alcuni gioielli di notevole valore di cui sono stati già rintracciati i proprietari e ai quali saranno restituiti Che consiglio possiamo dare per evitare di essere derubati in questo modo? Beh, diciamo che per evitare di essere derubati da una coppia di Bonnie e Clyde moderni come quelli che abbiamo arrestato oggi certamente bisogna stare molto attenti perché camuffati da turisti non è facile per una persona normale diciamo così avvedersi del fatto che si sta perpetrando una truffa ai propri danni il primo consiglio è sempre quello di andare cauti e non fidarsi quindi in questo caso specifico non scendere dalla macchina evitare di lasciare ovviamente la borsa poggiata sul sedile anteriore ma magari poggiarla sul pianale tra i sedili anteriore e posteriori in modo tale che sia meno visibile e comunque andare cauti quando è così parla con sconosciuti di truffe del genere purtroppo ce ne sono tante da quella dello specchietto ormai arcinota alla cosiddetta caida messa in atto sempre da cittadini sudamericani con uno stratagemma simile una dei due della coppia generalmente la donna fa finta di sentirsi male viene soccorsa da un ignaro passante al quale il complice sottrae il portafogli anche in questo caso bisogna sì prestare soccorso alle persone ma anche con attenzione ad evitare truffe ai propri danni